Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Noi veniamo a te e ti sentiamo, Signor, solo tu hai parole di vita, e rinascerà dall'incontro con te una nuova umanità. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. La pace sia con voi. Il Coro, i catechisti, tutti coloro che partecipano alla vita di questa bella comunità parrocchiale. È una comunità trinitaria. Sono tre, Musellaro, Bolognano e Pianodopta, ma come nella Trinità, i tre sono uno, anche voi dovete essere uno, uniti nella fede e nell'amore. So che questo è il grande impegno anche di Don Giorgio, l'ho visto in tante occasioni, vedo come lavora bene anche con i ragazzi e i giovani, anche gli ha reso con la collaborazione del Comune disponibile quel bel campo di calcio che avete realizzato. Il Signore benedica tutto questo e benedica la comunità civile ed ecclesiale di queste tre comunità. Invochiamo allora su tutti e ciascuno la luce, la grazia e la misericordia del Signore. Saluto anche naturalmente quanti attraverso Rete 8 ci seguono, ringraziando anche Rete 8 per questo servizio che ci consente di arrivare a tanti e di pregare con tanti che, come so da tante altre occasioni che abbiamo avuto, seguono per via televisiva o in streaming questi momenti. Confesso a Dio Onipotente e a voi, sorelle e fratelli, che ho molto peccato in pensieri, parole, opere ed omissioni, per mia colpa, mia colpa, mia grandissima colpa, e supplico la Beata, semprevergine Maria, gli Angeli, i Santi e voi, sorelle e fratelli, di pregare per me il Signore Dio. Dio Onipotente abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna. Amo. Dio Onipotente e a voi, sorelle e fratelli, di pregare per me il Signore Dio. Gloria, 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 Ti dobbiamo, Ti benediciamo, Ti adoriamo, Ti glorifichiamo, Ti rendiamo grazie per la Tua gloria immensa. Signore Dio, Genico, Gesù Cristo, Signore Dio, Agnello di Dio, Figlio del Padre, Tu che togli i peccati, i peccati del mondo, accogli, accogli la nostra supplicà, in mia destra, alla destra del Padre, abbi pietà di noi, abbi pietà di noi. Signore Dio, Gesù Cristo, Signore Dio, Gesù Cristo, Signore Dio, Gesù Cristo, Con lo Spirito Santo, nella gloria di Dio Padre, amén. Con lo Spirito Santo, nella gloria di Dio Padre, amén. Nella gloria di Dio Padre, amén. Preghiamo. O Padre, che nel cuore del Tuo dilettissimo Figlio ci dai la gioia di celebrare le grandi opere del Tuo amore per noi, fa che da questa fonte inesauribile attingiamo l'abbondanza dei Tuoi doni. Per il nostro Signore Gesù Cristo, Tuo Figlio che è Dio, vive e regna con Te, nell'unità dello Spirito Santo, per tutti i secoli dei secoli. Amo. Dal libro del profeta Osea Quando Israele era fanciullo, io l'ho amato, e dall'Egitto ho chiamato mio figlio. A Efraim io insegnavo a camminare, tenendolo per mano, ma essi non compresero che avevo cura di loro. Io li traevo con legami di bontà, con vincoli d'amore. Ero per loro come chi solleva un bimbo alla sua guancia. Mi chinavo su di lui per dargli da mangiare. Il mio cuore si commuove dentro di me, il mio intimo freme di compassione. Non darò sfogo all'ardore della mia ira, non tornerò a distruggere Efraim, perché sono Dio e non uomo. Sono il Santo in mezzo a Te, e non verrò da Te nella mia ira. Parola di Dio Prendiamo la grazia di Dio Attingeremo con gioia alle sorgenti della salvezza. Attingeremo con gioia alle sorgenti della salvezza. Ecco, Dio è la mia salvezza. Io avrò fiducia, non avrò timore, perché mia forza è mio canto il Signore. Egli è stato la mia salvezza. Attingeremo con gioia alle sorgenti della salvezza. Attingerete acqua con gioia alle sorgenti della salvezza. Prendete grazie al Signore e invocate il suo nome. Proclamate fra i popoli le sue opere. Fate ricordare che il suo nome è sublime. Attingerete acqua con gioia alle sorgenti della salvezza. Cantate in mezzo al Signore, perché ha fatto cose eccelse. Le conosca tutta la terra. Cantate ed esultate, tu che abiti in Sion, perché grande in mezzo a te è il Santo di Israele. Attingeremo con gioia alle sorgenti della salvezza. Dalla lettera di San Paolo Apostolo agli Efesini. Fratelli, a me, che sono l'ultimo fra tutti i Santi, è stata concessa questa grazia. Annunciare alle genti le impenetrabili ricchezze di Cristo e illuminare tutti sull'attuazione del mistero nascosto da secoli in Dio, Creatore dell'Universo, affinché, per mezzo della Chiesa, sia ora manifestata ai Principati e alle Potenze dei Cieli la multiforme sapienza di Dio, secondo il progetto eterno che Egli ha attuato in Cristo Gesù nostro Signore, nel quale abbiamo la libertà di accedere a Dio in piena fiducia mediante la fede in Lui. Per questo io piego le ginocchia davanti al Padre, dal quale ha origine ogni discendenza in cielo e sulla terra, perché vi conceda, secondo la ricchezza della Sua gloria, di essere potentemente rafforzati nell'uomo interiore mediante il Suo Spirito. Che il Cristo abiti per mezzo della fede nei nostri cuori, e così radicati e fondati nella carità, siate in grado di comprendere, tutti i Santi, quale sia l'ampiezza, la lunghezza, l'altezza e la profondità, e di conoscere l'amore di Cristo che supera ogni conoscenza, perché siate ripolmi di tutta la pienezza di Dio. Parola di Dio. Alleluia, 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 Alleluia. Alleluia, Alleluia, Alleluia. Alleluia, Alleluia, celeberò il Signore del metodo, perché eterna è la sua misericordia, mia forza e io canto, del Signore del mio Stato, la mia saperezza, Alleluia, 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 Il Signore sia con voi, e con il tuo Spirito, dal Vangelo secondo Giovanni, gloria a te, oh Signore. Era il giorno della Parasceve e i giudei perché i corpi non rimassero sulla croce durante il sabato. Era infatti un giorno solene quel sabato chiesero a Pilato che fossero spezzate loro le gambe e fossero portati via. Vennero dunque i soldati e spezzarono le gambe all'uno e l'altro che erano stati crucifisi insieme con lui. Venuti però da Gesù, vedendo che era già morto, non gli spezzarono le gambe, ma uno dei soldati con una langia li colpì il fianco e subito ne uscì sangue e acqua. Chi ha visto ne dà testimonianza e la sua testimonianza è vera. Eri sa che dice il vero perché anche voi crediate. Questo infatti avviene perché si compise la scrittura. Non li sarà spezzata alcun osso. Ed un altro passo della scrittura dice ancora «Volgeranno lo sguardo a colui che hanno attraffito». Parola del Signore 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 Carissimi, vorrei rivolgere una parola anzitutto a Don Giorgio. Questa parola è Nandri, che nella lingua di Don Giorgio, che è il Tamil, che è in realtà una lingua molto antica e molto ricca di letteratura, è molto vicina al sanscrito, la lingua da cui derivano tutte le lingue indoeuropee, significa grazie. Quando sono stato a tenere il corso ai Vescovi dell'India, 130 Vescovi, dopo il corso ottenuto a Bangalore sono stato nella diocesi di Tuticorin, che come sapete è gemellata con la nostra. Da una parte ho visto dappertutto i segni di questo gemellaggio, la città dei ragazzi, il villaggio per i lebrosi, la sede episcopale, la catechesi, eccetera, e soprattutto ho ringraziato Dio per questo legame bello che da tanti anni unisce la nostra diocesi alla diocesi di Tuticorin. Uno dei segni di questo legame è anche la presenza di Don Giorgio in mezzo a noi, lo ringrazio tanto per la sua generosità, il suo coraggio, il suo entusiasmo. E al tempo stesso gli rinnovo la vicinanza e la preghiera, perché come sapete a causa del Covid ha perso delle persone, lui, molto molto care. Noi vogliamo pregare per loro e naturalmente per lui e tutti i suoi cari. Fatta questa premessa che mi sembrava doverosa, vorrei riflettere molto brevemente sul cuore di Cristo. Oggi in questa comunità parrocchiale si celebra la solennità del Sacro Cuore. Non è la data liturgica, ma è legata alla tradizione e alla festa di questo popolo. Che cosa significa il cuore di Cristo? E perché è così importante per noi? Partiamo da un dato biblico. In ebraico la parola cuore si dice leb. Ed è una parola centrale in tutta la Bibbia. Perché nella visione biblica il cuore è il centro vitale della persona. E si identifica con la persona stessa. Dunque quanto c'è di più prezioso nel bene e quanto può esserci di più pericoloso nel male, abita nel cuore. Infatti i rabbini, che giocano spesso con le parole, dicono che leb è il contrario di bal. Bal è una espressione dell'ebraico piuttosto antico che significa no. Ed essi dicono, solo nel cuore si può dire sì o no. Ecco perché il cuore è così decisivo. Un cuore che dice sì a Dio si apre a Lui e si lascia abitare da Lui. Un cuore che dicesse no si chiude a tutte le luci, le grazie, gli aiuti che il Signore può dare. E allora capiamo che il cuore è fondamentale. Ma se è fondamentale per noi, per aprire il nostro cuore a Dio e agli altri, è anche nella vita di Gesù, l'uomo Dio, il Dio fatto un uomo per noi, che il cuore è centrale. Il testo del profeta Osea ci dice che il Dio che noi crediamo, il Dio che ha mandato suo figlio, è un Dio che ha un grande cuore. Un cuore ricco e pieno di misericordia, di tenerezza e di pietà. Ecco la prima bellissima immagine. Il cuore di Dio come il cuore di un padre, di una madre, che non si dimentica mai dei suoi figli. Pensate che in ebraico la parola misericordia si dice rahamim, che significa letteralmente le viscere materne. Dunque Dio è come una madre, e come una madre ama di amore viscerale il proprio figlio, perché lo ha portato in grembo e generato la vita, così Dio ama ciascuno di noi. Ricordiamoci sempre di questo cuore divino, di questo grande cuore, perché questo ci sosterrà nei momenti di dubbio, di prova, ci farà capire che non siamo mai soli, che c'è sempre un amore più grande, che ci precede, che ci accompagna, che vuole costruire con noi il cammino di bene, che siamo chiamati a realizzare per noi stessi e per gli altri, nella varietà delle storie, delle vocazioni che tutti noi abbiamo. C'è poi un secondo messaggio che ci viene dalla lettera di Paolo agli Efesini. Paolo ci dice non semplicemente che Dio ha un grande cuore, ma che questo immenso amore divino è venuto ad abitare in mezzo a noi. Ci presenta Gesù come l'amore incarnato di Dio. E' la bellissima formula che usa Papa Benedetto nella sua enciclica Deus Carita Seste. Gesù è l'amore incarnato di Dio. Dunque Gesù rende presente Dio nel nostro cuore. Quando noi nella fede accogliamo Gesù, ci lasciamo amare da Lui, il nostro cuore viene colmato dell'amore che non conosce pentimento, dell'amore che sarà sempre fedele. E noi stessi, nonostante i nostri limiti, diventiamo capaci di amare. Quanto è importante capire questo. In ogni relazione della vita, perfino nelle relazioni, per esempio, con gli avversari, in politica ci sono tante relazioni con gli avversari, bisogna sempre ricordare questo, che l'avversario non è un nemico. È sempre un fratello da amare in Cristo, da rispettare e da aiutare a cogliere il bene, come ognuno di noi deve impegnarsi a fare altrettanto. Capite che in questa visione anche la politica diventa veramente un servizio al bene di tutti, in cui sforzandoci tutti di cooperare l'amore di Cristo attraverso di noi, può produrre grazia e miracoli. Dunque un cuore grande, quello di Dio che ci ama, un cuore abitato dall'amore infinito di Dio, quello che Cristo è venuto a portare in mezzo a noi. Ma c'è un'ultima immagine che oggi la parola di Dio ci dà, un'immagine che è stata tanto meditata nella vita, nella fede, nella storia della Chiesa, ed è quella del costato di Cristo che, trafitto dalla lancia, fa scaturire sangue d'acqua. Secondo la tradizione, la lancia era stata portata da un soldato, Longino, e addirittura la tradizione popolare identifica questo Longino come un abitante delle nostre terre, sarebbe stato un frentano, veniva dunque da Lanciano. Ecco, perciò Lanciano si chiamerebbe così perché è il paese del soldato della lancia che ha trafitto il cuore di Cristo. Non è un grande titolo di onore, ma noi rispettiamo le diocesi vicine, non entriamo nella materia. Quello che però ci colpisce è che il cuore di Cristo, trafitto da quella lancia, fa scaturire sangue d'acqua. Ed è una simbologia bellissima, perché nella Bibbia il sangue è la vita, e l'acqua è la purificazione, la rigenerazione, la vita nuova. Dunque, da Cristo crocefisso scaturisce la vita nuova della grazia, quella che ci raggiunge nel pane e nel vino dell'Eucharistia, e scaturisce la grazia del battesimo. In altre parole, quanto più noi amiamo Gesù, quanto più viviamo uniti a Lui, tanto più la vita nuova di Dio scorre in noi, diventiamo capaci di credere, di sperare e di amare. E allora ecco la grande preghiera che oggi mi avete indotto a fare, proprio invitandomi a celebrare in questa data, un po' insolita, perché è fuori del calendario liturgico, la festa, la solennità del Sacro Cuore. La preghiera che si rivolge al cuore di Dio. Gli dice, Signore, Tu che ami ognuno di noi di un amore infinito, Tu che sei il grande cuore, sempre pronto a cominciare di nuovo ad amare, perdonando e dando misericordia, aiutaci, Ti preghiamo, a spalancare il nostro cuore al dono della Tua grazia. Vieni ad abitare in noi, purificaci dai nostri peccati, rinnovaci con la vita nuova che soltanto Tu puoi darci, e rendici capaci di amare, al di là di ogni misura di stanchezza, nella fedeltà di ogni giorno, nel servizio che, nella vita familiare, sociale, civile, ecclesiale, ci chiami a realizzare. E fa che quel pane di vita che ci offre, quel sangue che nell'Eucharistia ci doni, e quell'acqua che nel Battesimo ci ha rigenerati, siano sempre per noi la forza per iniziare in modo ogni giorno nuovo ad amarti, per vivere con fedeltà l'amore a cui ci chiami, per spendere la nostra vita al servizio Tu e degli altri, in modo che sia piena di significato e di passione. Te lo chiediamo, Signore, per intercessione di Maria Santissima, Tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. Amo. Carissimi, stasera in mezzo a voi c'è il Vescovo, il successore degli Apostoli, allora vi chiedo di rinnovare il sì della fede, rispondendo alle domande che vi faccio sulla fede apostolica, sul simbolo apostolico. Credete in Dio, Padre Onnipotente, Creatore e Signore del cielo e della terra? Credo. Credete in Gesù Cristo, suo unico Figlio, che nacque da Maria Vergine, morì sotto Ponzio Pilato, risorse dei morti e salito al cielo, e di nuovo verrà nella gloria per giudicare i vivi e i morti? Credo. Credete nello Spirito Santo, la Santa Chiesa Cattolica, la remissione dei peccati, la risurrezione della carne e la vita eterna? Credo. Questa è la nostra fede. Questa è la nostra fede. Questa è la fede della Chiesa. Questa è la fede della Chiesa. E noi ci gloriamo di professarla. E noi ci gloriamo di professarla. In Cristo Gesù, nostro Signore. In Cristo Gesù, nostro Signore. Sorelle e fratelli, il Signore Gesù ci ha rivelato l'amore gratuito e universale del Padre e dal suo cuore aperto ha fatto scaturire la sorgente di ogni grazia e benedizione. Allora, insieme rispondiamo. Per il mistero del tuo amore misericordioso, ascoltaci, o Signore. Per il mistero del tuo amore misericordioso, ascoltaci, o Signore. Signore Gesù, affidiamo a te il nostro cammino cristiano e la vita di tutta la Chiesa. Sostiedici con la guida dei pastori, la testimonianza dei fratelli, la tua vicinanza nella preghiera e nella carità. Preghiamo. Per il mistero del tuo amore misericordioso, ascoltaci, o Signore. Signore Gesù, nel nostro mondo, che ricerca speranza e pace, fa brillare la luce della fede e la fiamma della carità, perché ci facciamo cariche gli uni e degli altri nel vivere quotidiano e nei drammi. Per il mistero del tuo amore misericordioso, ascoltaci, o Signore. Perché ogni uomo della terra, purificato dal sacrificio pasquale di Cristo è immerso nel suo cuore colmo d'amore, sia in grado di comprendere quale sia l'ampiezza, la lunghezza, l'altezza e la profondità del dono ricevuto, e sia ricolmo di tutta la bellezza di Dio. Preghiamo. Per il mistero del tuo amore misericordioso, ascoltaci, o Signore. Perché la nostra comunità parrocchiale di Plano d'Orta, che riconosce nel cuore di Gesù il suo celeste patrono, si faccia promotrice della salvezza, sgorgata dalla croce, e coltiva e promuova ideali alti di vita, di santità e preghiamo. Per il mistero del tuo amore misericordioso, ascoltaci, o Signore. Perché i bambini, i ragazzi, i giovani, le famiglie, gli adulti e gli anziani della nostra comunità parrocchiale sappiano riconoscere nel cuore di Cristo il modello perfetto dell'amore, e si amino l'uno o l'altro senza alcun rancore e ipocrisia, come Lui ha amato noi. Preghiamo. Per il mistero del tuo amore misericordioso, ascoltaci. Signore Gesù, che nel sangue e nell'acqua effusi sulla croce, ci hai donato il tuo Spirito e ci hai aperto le sorgenti della salvezza, liberaci dalla schiavitù del peccato, perché possiamo aderire a te, nostro Redentore, e portare ogni giorno il gioco soave del tuo amore, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. Amo. 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 Grazie a tutti. 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 speranza, e venga il nostro Salvatore, Gesù Cristo. Oh, regno, tu hai la potenza e la gloria sei sempre. Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi Apostoli, vi lascio la pace, vi do la mia pace, non guardare ai nostri peccati, ma alla fede della tua Chiesa, che donale unità e pace secondo la tua volontà, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. Amen. La pace del Signore sia sempre con voi. E poi il tuo spirito. Con lo sguardo e con il cuore scambiamoci un segno di pace. Grazie. La pace del Signore sia sempre con voi. 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 Ecco l'Agnello di Dio, ecco colui che toglie i peccati del mondo. Beati gli invitati alla cena dell'Agnello. Oh, Signore, non sono degno di partecipare, ma di soltanto una parola e io sarò saluto. La pace del Signore sia sempre con voi. 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 Preghiamo. il sacramento della carità. la pace del Signore sia con voi. la pace del Signore sia sempre 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 con voi. Ci sono anche i segnali positivi, ci sono stati già. Voglio ringraziare tutte le persone che si sono imbegnate per questo giorno, in particolare il coro guidato dalla Greta Ardito, i chirichietti, a coloro che si sono dedicati alla preparazione della liturgia, che hanno dedicato il proprio tempo libero per la riuscita di questa festa così importante per la nostra comunità. Ringrazio la protezione civile di Bolognano per la disposizione. Il mio grazie a quanti hanno partecipato e hanno contributo alla buona riuscita delle giornate. Desidero ringraziare ciascuno e ciascuna di voi. Grazie a chi ha operato nei cambi, negli ambiti più diversi. Grazie a chi ha dato il suo apporto, il suo contributo. Grazie a chi, nonostante tutto, e tutti continuano a credere che sentirsi figlio amato di una comunità, ne valga la pena. Per noi la vostra partecipazione è più bella, più belli ringraziamento. Concludo chiedendo a tutti voi di continuare insieme a camminare nell'amore, nella gioia per rinnovare l'oltre della nostra parrocchia, per testimoniare concretamente il comandamento dell'amore, così come ha fatto Maria Santissima anche tutti i santi in tutta la loro vita. Nel fare il ritorno delle nostre case, portiamo con noi la benedizione di Dio, custodiamo nei nostri cori le parole di Gesù. Da questo tutto sapranno che siete i miei discepoli, se vi amate gli uni gli altri. Ho avuto fame, mi ha dato da mangiare. Ho avuto sete, mi ha dato da bere. Era forastiero, mi ha accolto. Era malato, mi hai visitato. Era in carcere e sei venuto a trovarmi. Ogni volta che hai dato un bicchiere d'acqua fresca al più piccolo dei miei fratelli, lo hai dato a me. Grazie e ringrazio il nostro comandante di Polizia Stradale di Piana d'Orta. Grazie in particolare al re Teoto, oggi hanno trasmesso questa Santa Mesa la festa di Piana d'Orta per vedere tutti gli abruzzesi che oggi stanno guardando la nostra Chiesa tramite questo canale 10 di Rette 8. Grazie a tutti voi, buone feste. Grazie a tutti. Stavo appunto per dire che nei tanti ringraziamenti di Don Giorgio ci mancava il ringraziamento a Don Giorgio perché veramente si spende con entusiasmo e generosità. Vi benedico tutti nella gioia di questa celebrazione raccolta, intensa, che però ha raggiunto certamente tante case e tanti cuori ancora grazie al re Teoto e la mia benedizione raggiunga tutti. Sia la benedizione del Signore che ci conforta, ci sostiene, illumina i nostri passi e ci rende capaci di amare come Lui ci ha amato e sempre nell'obbedienza alla Sua volontà. La Vergine Santa ci assista e ora accogliete la benedizione del Signore. Il Signore sia con voi. E poi è il tuo Spirito. Sia benedetto il nome del Signore. Ora è sempre. Il nostro aiuto è nel nome del Signore. E li ha fatto cielo e terra. Vi benedica Dio Onipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo. Amén. La gioia di Cristo sia sempre la nostra forza. Andiamo in pace. Prendiamo. Grazie a tutti. Aguri e la Madonna vi accompagna tutti. Ciao. Grazie. Pregate anche per me. Io prego per voi. Pregate anche 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 per voi. Grazie a tutti.